Vi devo dire che quando siamo andati al festival di Venezia non siamo riusciti a trovare un po' di fegato a Veneziana No, sono andato nei posti sbagliati Ma quando mai? Ma dice che d'estate noi non fanno il fegato a Veneziana Noi lo facciamo, da Cipriani c'è sempre la risbara Esci via la risbara, quanto costa la risbara? La tazza di caffè sono 20 euro Non ho capito, ma sei a Venezia, sei un'icona della ristorazione Adesso non esagerare, cerchi la rissa allora, cerchi la rissa a Venezia, parli con la campagna